Il triangolo magico della rigenerazione di Roma ha due vertici sicuri, il PNRR è il giubileo del 2025 e poi c'è il terzo, Expo 2030, che però non dipende né da Bruxelles né dal Vaticano ma da un voto internazionale ormai imminente. A Parigi infatti l'obiettivo di Roma è tanto alto quanto semplice, bisogna centrare anche il terzo obiettivo, ottenere l'esposizione internazionale e chiudere il triangolo. Il sindaco di Roma, Gualtieri, lo chiama l'allineamento dei pianeti e se gli astri sono favorevoli, bisogna puntare al cielo perché bene il recovery, bene l'anno santo, ma il triplette porterebbe per Roma e per l'Italia un ciclo senza precedenti miliardi su miliardi di investimenti, oltre a una proiezione di progettualità sulla città allungata di quasi dieci anni perché alla curva successiva nel 2033 ci sarà anche il bimillenario della morte e risoluzione di Cristo e dunque 2025, 2030 e poi 2033. Le tappe ci sono, il lavoro non manca.